E sbaglia la storia, la storia continua, ci sono altre relazioni, ma è un altro splendido capitolo, Stimula d'Italia nella Pallacolo, un altro splendido capitolo rilegato sempre di nuovo, una che continua, diceva Montani, ma una pochettina davvero con un cuore grande così, ancora uno successo della Pallacolo nazionale, Stimula d'Italia perché si era messo...